AW World's End è stato un pay per view che ha chiuso l'annata della All Elite Wrestling un po' anche fra le polemiche diciamo e con una qualità dello show abbastanza altalenante ma è stato un evento che ci ha servito comunque dei momenti molto interessanti non solo il finale dell'evento dove si è rivelato chi c'è chi ci fosse dietro la maschera del diavolo ovvero Adam Cole ma anche poi un match una finale di un torneo davvero molto molto bello quello del Continental Classic che ci ha regalato anche il primo Triple Crown Champion della All Elite Wrestling ma ancora una volta benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore con voi come sempre il vostro Draco ancora una volta qui con voi per condurvi in una nuova narrazione anche poi per sapere le vostre opinioni quindi come sempre io vi ricordo che una cosa che potete fare per vivacizzare un po' l'atmosfera intorno ai nostri contenuti e lasciare un commento riguardo la eh tematica appunto del contenuto in questione così come anche potete lasciare eh dei like che sono delle cose gratuite sostanzialmente che però permettono ai nostri contenuti di arrivare a quante più persone possibile quindi una cosa che ci aiuta davvero molto se ci seguite poi anche sui social siamo su Facebook siamo su Instagram ci potete aiutare anche lì con le vostre interazioni che davvero che davvero fanno la differenza per chiacchierare quotidianamente con noi invece c'è il nostro gruppo Telegram e potete raggiungerci ovunque tramite il link che trovate in descrizione di questo video ma il Triple Crown della EW allora una premessa al di là magari del risultato che ormai conosciamo tutti ci ho messo un po' di tempo magari per eh fare questo video perché sostanzialmente World's End è stato alla fine dell'anno l'hanno iniziato con una batteria poi di puro reso quindi c'erano tante cose da vedere anche magari da tenere d'occhio ho lasciato un po' di tempo anche alla nostra community comunque di recuperare il tutto al di là poi del sapere chi avesse vinto però appunto il Continental Classic della All Elite Wrestling a mio avviso è stato davvero molto interessante ne parlavo già nel eh video dedicato ad ad Andrade così come in un video dedicato ai membri delle stable in quanto tempo televisivo hanno avuto grazie al Continental Classic e quindi pur non apparendo magari in gruppo hanno potuto comunque essere on screen che è sempre una cosa molto importante no io direi meglio esserci che non esserci meglio lavorare avere occasioni di esibirsi che magari stare nel backstage a non far nulla e se magari Andrade ha avuto un'uscita di scena molto importante come dicevo nello scorso video grazie al Continental Classic c'è chi ha potuto invece mettere la ciliegina su un'annata davvero molto ricca e molto importante e quel qualcuno è Eddie Kingston Eddie Kingston che in questo Continental Classic sostanzialmente ha messo in palio tutto il titolo mondiale Ringo Ponor che aveva vinto contro Claudio Castagnoli e poi anche il titolo di NJPW Strong vinto se non ricordo male contro Ken però comunque diciamo due cinture che poi aggiunte alla cintura Continental quindi il titolo Continental vanno a creare il Triple Crown ora per quanto diciamo le regole non siano state spiegate nel dettaglio tutte quante molto bene abbiamo iniziato il torneo convinti che Eddie Kingston avrebbe rischiato di perdere le cinture ad ogni match questa cosa non è avvenuta anche perché comunque i primi match di Eddie Kingston nel Continental Classic sono state delle sconfitte quindi sarebbe dovuto accadere subito sostanzialmente ma non è avvenuto perché il senso dell'annuncio fatto originariamente era che le cinture venivano messe in palio ma come premio del torneo quindi comunque dei piccoli contro per quanto riguarda il Continental Classic ci sono già dalla spiegazione delle regole così come anche magari un po' nel fatto che per via dei tanti match che ci sono stati davvero molto molto belli è stato un torneo incredibile e lo aspettavo tanto un torneo round robin fatto come si deve in AEW poi con l'assenza anche di interferenze è stato davvero bello da vedere allo stesso tempo però ha sottratto molto tempo ad altre dinamiche come per esempio quelle della divisione tag team e insomma un po' in generale delle comunque delle altre situazioni che si possono creare all'interno del roster della della All Elite Wrestling ciò comunque non toglie il fatto che è stato fondamentale per avere anche comunque dimostrazione del percorso che stanno facendo tanti nomi all'interno della federazione Eddie Kingston è arrivato alla vittoria però per esempio c'è Daniel Garcia che grazie a questo torneo ha avuto l'occasione di mettersi in mostra davvero molto positivamente Brody King ha mostrato un lato che comunque finora non era venuto fuori all'interno della AEW e poi diciamo fra i vari performer che hanno lottato ovviamente dobbiamo soffermarci sui nomi che sono riusciti ad arrivare in fondo e quindi troviamo sostanzialmente il revival di una faida storica comunque per quanto riguarda la All Elite Wrestling specie il periodo pandemico ovvero Jon Moxley contro Eddie Kingston Jon Moxley finalista del eh della Gold League del torneo Eddie Kingston finalista invece della Blue League un Jon Moxley che per certi versi ha fatto un percorso più semplice rispetto a Eddie all'interno della competizione non vi parlo di eh di match ma vi parlo proprio di narrativa è quello che ha avuto la strada spianata che è riuscito a resistere eh a tutto sostanzialmente si è lasciato beffare da Jay White un po' sul sul finale del match è stato sconfitto in modo a mio avviso pulito però comunque sia eh è andato avanti come un treno Eddie Kingston invece ha raccontato la storia di una rimonta la storia di un riscatto che doveva avvenire dopo un inizio del torneo dove lui si sentiva molto sicuro di sé ma dove è rimediato due sconfitte molto cocenti una con Brody King e una con eh Brian Danielson quindi alla fine era un po' una narrativa più emotiva quella eh di Eddie Kingston che lo ha portato poi nella finale del suo girone a battere Brian Danielson per poi andare a World's End contro Jon Moxley una cosa che non è a caso magari qualcuno ha storto il naso se eh c'era comunque di nuovo Jon Moxley presente in un match comunque di primo piano importante per quanto riguarda un grosso evento della IW per certi versi potreste anche avere ragione ma appunto rimando al fatto che c'era una storia c'era un pregresso comunque tra eh questi due perché nel periodo pandemico Eddie e Moxley hanno avuto una rivalità all'interno della IW per quanto poi magari i match non abbiano reso quella che era la carica emotiva trasmessa dal dai vari promo dalla costruzione beh comunque a mio avviso è stata una storia importante nel periodo in cui si è svolta e grazie a questo torneo Eddie è potuto arrivare davanti a Jon Moxley con le credenziali per battere sostanzialmente quello che è una delle punte di diamante se non per certi versi proprio la punta di diamante della IW per via della costanza per via della disponibilità e della presenza che ha sempre avuto all'interno del progetto di eh Tony Khan anche quando magari aveva bisogno un po' di respirare di tirare il fiato e aveva anche delle ferie finalmente da eh da godersi però Eddie Kingston ha fatto davvero un percorso importante vi parlo non solo di ehm persone che ha affrontato perché poi ovviamente il wrestling ha una caratteristica di predeterminazione quindi c'è chi vince c'è chi perde viene deciso e quello che vediamo nel match poi appunto è lo svolgimento di quella trama di quella eh di quella costruzione che viene che viene già decisa però vi parlo proprio di minutaggio di tempistica che Eddie è riuscito comunque eh a portare in essere perché con il Continental Classic Eddie Kingston ha avuto l'occasione comunque di avere tanto tempo televisivo in un mese come quello di dicembre come già detto che era molto importante per via delle varie costruzioni anche in vista del eh del pay per view e ben 84 minuti eh di tempo televisivo sono stati poi ehm aggiunti ai diciassette minuti in pay per view quindi comunque sia all'interno del Continental Classic complice anche il fatto che la finale del girone non aveva il limite di tempo di 20 minuti comunque Eddie Kingston ha lottato tanto cioè lasciando perdere appunto il risultato ha comunque lottato tanto, ha resistito tanto ed è una cosa quella della resistenza, quella comunque del dell'atleticità che spesso non viene riconosciuta a Eddie Kingston e secondo me è un po' ingiusto perché passa il fatto che tutti quanti possiamo avere delle preferenze un wrestler ci piace, un wrestler ci piace meno eh cioè va bene, ci sta perché comunque eh sono gusti personali però appunto tante volte non viene riconosciuto Eddie Kingston il suo valore anche atletico non è un wrestler magari scultorio, scolpito come altri che vediamo per esempio no? Scorso video vi parlavo di Andrade Andrade è decisamente un wrestler proprio esteticamente molto diverso da Eddie Kingston ma secondo me poi si è visto anche nel match tra Eddie e Andrade cioè Eddie ha ben poco comunque da invidiare ad Andrade è un ottimo striker, magari non è un flyer, non può fare mosse aeree con grande scioltezza anche se comunque nel match contro Brian Denelson c'è stato un suo volo fuori dal ring che vi confesso mi ha fatto venire un po' le palpitazioni però c'è comunque sia un ottimo picchiatore che riesce a resistere anche a incontri un po' più lunghi che non è esattamente una cosa scontata perché anche magari i wrestler più atletici possono fare fatica comunque a portare avanti una battaglia per tanti minuti specie con uno stile di lotta come quello di Eddie che si basa molto comunque su quello che è il puro reso un po' della vecchia scuola All Japan Pro Wrestling tante chop, tanti suplex comunque di quelli molto pesanti che davvero bisogna essere bravi tecnicamente vi parlo proprio di pulizia e di esecuzione per non fare del danno serio all'avversario quindi alla fine per quanto magari possa avere uno stile che ad un occhio così come dire occasionale possa sembrare ripetitivo e per quanto come già detto non sia scultorio come altri colleghi Eddie Kingston ha mostrato comunque una notevole resistenza davanti anche a performer comunque molto navigati come già detto Brian Danielson ma anche appunto lo stesso Andrade che davvero anche lui ha fatto un torneo molto molto bello già dicevo all'inizio è un po' una cosa generale di tutti i partecipanti Eddie però appunto grazie al torneo ha messo come dicevo in apertura una ciliegina su un'annata molto importante infatti andiamo a vedere nel 2023 ha lottato ben 57 match con 44 vittorie 12 sconfitte e un solo pareggio con un picco di attività nel mese di agosto 2023 dove ha lottato ben 10 match ovviamente questo grazie anche al fatto che partecipare al G1 Climax della New Japan Pro Wrestling lottare tanto nel corso delle settimane oltre che poi nei match del torneo anche magari in vari match di coppia gli ha permesso comunque di accumulare tanti incontri e anche lì quella era una sfida per Eddie Kingston dove lui davvero si giocava tanto perché partecipare al G1 Climax vuol dire partecipare al torneo più duro che ci sia il torneo che davvero ti porta allo sfinimento e come diceva Masairo Ciono durante una intervista a ridosso del G1 Climax 33 può capitare spesso di infortunarsi e bisogna alcune volte anche imparare a stringere i denti se si vuole proseguire nella competizione se è possibile proseguire nella competizione quindi comunque Eddie Kingston già solo per il fatto di essere riuscito a partecipare fino alla fine del Climax e poi anche in altri match di coppia ulteriormente davvero secondo me è una grande prova portata a compimento con successo della sua annata 2023 così come per certi versi anche lo è il Continental Classic perché va bene comunque negli Stati Uniti c'è un livello di competizione diverso però comunque era un torneo che metteva in gioco dei nomi molto importanti e riuscire a reggere diciamo i ritmi lo stile di quei personaggi un po' come dire anche più apprezzati dal pubblico sotto alcuni aspetti magari non tanto Brody King che è stato comunque affiancato ad altri dell'House of Black però per esempio Brian Danielson così come anche Andrade Claudio Castagnoli che comunque sia non è arrivato magari molti in avanti nel torneo ma ha comunque fatto delle ottime performance aveva molto supporto da parte del pubblico beh ovviamente riuscire a stare nel ring ed essere convincente essere comunque resiliente davanti a questi nomi non è decisamente una cosa da poco e Eddie Kingston riesce ad arrivare alla vittoria del Triple Crown Championship in quel di World's End in un match che a mio avviso è stata poi la perla davvero finale perché non ci sono solo tante botte ma veramente tante botte ma c'è anche tanta emotività da parte di due che sostanzialmente nel ring sono rivali ma comunque hanno anche un rapporto extra wrestling hanno una conoscenza pregressa quindi comunque si respira quella atmosfera proprio di realtà che viaggia fra la finzione e la realtà con quell'abbraccio poi che a mio avviso racconta veramente veramente tanto ed è anche quello una legittimazione del percorso che ha fatto Eddie Kingston John Moxley uno dei top name assoluti della All Elite Wrestling e del mondo del wrestling in generale in questo momento che riconosce la crescita il valore di Eddie Kingston che si prende quindi qualcosa che lo porta effettivamente nei libri di storia della AEW a mio avviso meritatamente è un qualcosa che comunque si svilupperà anche in questo 2024 perché quelle cinture non saranno solo mero orpello non saranno solo vanto del palmarès ma saranno comunque presenti nelle varie dinamiche non solo della All Elite Wrestling ma anche della New Japan infatti abbiamo già delle sfide pronte per il Triple Crown Champion ovvero Willer Yuta per quanto riguarda il mondo di AEW sta puntando Eddie Kingston è deciso a mettere subito fine a questo suo momento di gloria mentre invece in New Japan c'è Gabby Kid che non vede l'ora di assaltare il Mad King lui che sostanzialmente ha schifato questo titolo lui non vuole il Triple Crown non vuole tutte le cinture lui vuole che il titolo di NJPW Strong ritorni in New Japan e quindi cercherà di affrontare Eddie Kingston presumibilmente il match fra i due sarà a Battle in the Valley l'evento che la New Japan terrà in California nel mese di gennaio però ecco si delineano già delle trame Eddie Kingston avrà l'opportunità di partecipare al prossimo Continental Classic quello del 2024 però comunque nel corso dell'anno dovrà portare avanti una narrativa legata alle cinture che ha conquistato a World's End o meglio quella che ha conquistato e poi le due che già aveva dato che lui era già campione Ringo Ponor e già campione NJPW Strong quindi appunto un quadro che sostanzialmente continuerà a riempirsi io davvero sono molto interessato in questo momento a quello che si potrebbe costruire intorno al titolo ovviamente però ora la parola passa anche a voi volate qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate del Continental Classic del percorso che ha fatto Eddie Kingston e cosa vorreste vedere appunto nel futuro di queste cinture per quanto magari sia un dispiacere vedere due titoli comunque molto diversi fra loro anche per storia come per esempio quello per il titolo mondiale Ringo Ponor a mio avviso si potrebbero comunque costruire delle cose interessanti ma ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo a un prossimo video sempre qui su Wrestling Unicom